bentornati sul canale come state come vanno le vostre letture fatemi sapere nei commenti cosa state leggendo di bello se sono iniziate delle letture primaverili oppure se state ancora leggendo delle storie da copertina e da cammino acceso e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per nuovi video o alcune novità da dirvi la prima la più importante siamo arrivati a ben 500 iscritti e quindi volevo ringraziare tutti in particolare quelli che mi seguono dall'inizio di questa avventura che è nata per scherzo durante il lockdown ho iniziato infatti a parlare delle mie letture della mia passione per la lettura e ho coinvolto ben 500 persone e quindi sono molto contenta di questo risultato perché significa che sono comunque riuscita a comunicare la mia passione per la lettura che è una passione che mi accompagna praticamente da quando ho iniziato a leggere recentemente perché non è da tanto pubblicato tra l'altro il mio primo romanzo ho iniziato questa grande avventura ulteriore grande avventura della scrittura perché io scrivo da sempre anche per lavoro perché sono ghostwriter ma ho iniziato non da molto scrivere a mio nome e quindi ho realizzato una pagina facebook proprio dedicata alle mie attività di scrittura ai miei libri alle mie novità che vi invito a seguire e poi ci sarà anche qualcos'altro ma ve lo racconterò a tempo debito quindi grazie a queste 500 persone che condividono con me la passione per la lettura e se volete seguire anche le mie avventure e le mie novità per quanto riguarda la scrittura potete appunto farlo anche attraverso la mia pagina facebook vi metto tutti i riferimenti e poi su instagram sono sempre come serena con un libro in mano potete seguire quella che è la mia giornata di lettrice e anche da scrittrice perché comunque su instagram sono molto presente anche con contenuti nelle stories e quasi giornalieri cerco comunque di essere presente anche perché su instagram ho conosciuto tante persone e con alcune sono state strette delle vere e proprie amicizie che vanno al di là del social e quindi bazzico sempre quotidianamente o per pubblicare qualcosa io o per seguire quello che hanno pubblicato queste persone ma passiamo al libro di oggi libro di oggi è un fantasy con delle venature molto forti di romanticismo ovvero sto parlando di la ragazza che cadde in fondo al mare un libro scritto da un'autrice che si chiama Aksi Oh probabilmente avrò sbagliato la pronuncia un'autrice che ha origini coreane si tratta di un'autrice molto giovane che però non è coreana nel senso che vive appunto in corea e quindi il libro non è penso stato scritto in coreano ma in inglese e una ragazza che però ha origini coreane ma che vive negli stati uniti i nonni penso fossero appunto coreani comunque c'è qualcosa all'interno del libro nella parte relativa appunto alla biografia si parla di famiglia coreana però nata a New York e cresciuta nel New Jersey quindi il libro dicevamo è sicuramente un fantasy ma ha delle venature romantiche molto forti che lo rendono adatto anche a delle lettrici giovani è uno young adult a tutti gli effetti di lettura estremamente piacevole ho trovato la prosa assolutamente elegante con delle espressioni veramente originali e quindi una lettura piacevole è vero sembra un mattoncino ma si legge molto rapidamente e tra l'altro volevo farvi un attimo notare quello che è il libro in quanto libro quindi la copertina tra l'altro qui abbiamo una doppia copertina per cui un libro assolutamente adatto anche come regalo perché è molto originale vedete la copertina è sostanzialmente doppia quindi potete cambiare anche se volete la copertina dentro è tutto bianco insomma veramente bello e poi che dire di quella che è in qualche modo la parte proprio della costa qui vedete appunto tutti i colori che amano la copertina quindi assolutamente bellissimo come libro e come young adult a chi piacerà sicuramente se amate la mitologia coreana più che la mitologia coreana perché voglio dire magari uno dice io non la conosco quelli che sono i k drama che vanno tanto di moda perché comunque io forse sono stata un po' una pioniera nel senso che ho iniziato a vederli quando ancora non se ne parlava così tanto quando sono appena arrivati su netflix adesso sono estremamente tra virgolette di moda nel senso che sono in molti a fruire di questi contenuti sono molto contenta di questo perché hanno permesso di approcciarsi a una mentalità un po' nuova diciamo così dalle nostre parti nel senso che questi k drama spesso attingono a piene mani da quella che è la cultura buddista da quella che è la loro tradizione le loro leggende appunto perché anche qui si parla di leggende e la loro in generale cultura ritroviamo infatti all'interno dei k drama tantissimi valori diciamo così della cultura buddista della religione buddista il modo di vedere comunque la vita e che io ho trovato denso di punti di affinità proprio in generale con quello che è in qualche modo la quella che è la mia visione del mondo ma anche diciamo il mio tessuto il mio il mio sentire la mia sensibilità tant'è vero che come ben sapete perché qui di video dedicati ai k drama ce ne sono tanti ne ho visti appunto parecchi e non ho trovato assolutamente alcuna difficoltà con la sottotitolazione che so che per qualcuno invece è un grosso limite io dal mio punto di vista vi posso dire che è un limite estremamente superabile questo l'ho già detto lo ridico perché amo tantissimo i k drama nel senso che sì le prime magari vi creano vi creeranno un po di difficoltà ma poi andando avanti queste difficoltà saranno proprio se superate dalla bellezza della storia che andrete a vedere e quindi mi mancano i miei ragazzi coreani e le mie ragazze coreane per cui penso che tra poco riprenderò a guardare qualche cosa perché è un po' che non inizio una serie coreana sono un po' di mesi bisogna rimediare comunque quindi se vi piacciono i k drama se vi piacciono le leggende coreane e quel modo di narrare quella fabulazione che è tipica di quei prodotti non potrete non amare questo libro perché si parla di una leggenda coreana che è quella appunto della sposa del dio del mare e una leggenda che penso i ragazzi e le bambine i bambini coreani si saranno sentiti raccontare da piccoli e qual è questa leggenda il dio del mare ogni anno chiede una sposa riecheggia un po' la mitologia quelli che sono gli archetipi generali perché anche noi abbiamo delle storie simili chiaramente ce l'hanno tutti e comunque qui abbiamo appunto questa sposa che deve andare appunto in mare perché alla fine tecnicamente è un annegamento che questa sposa dovrà appunto subire per essere catapultata come appunto promessa sposa del dio del mare nel mondo degli spiriti dove non andiamo a ritrovare solamente anime di defunti chiaramente sempre nell'ambito della tradizione e del quello che in qualche modo è lo stile e l'universo buddista ma andiamo a ritrovare anche delle divinità e tra queste c'è appunto anche quella del dio del mare e per in qualche modo riuscire ad evitare che vada in sposa al dio del mare la fidanzata di suo fratello alla quale la protagonista è affezionatissima si sacrifica lei e sarà l'inizio di questa avventura vi dico questo perché è scritto proprio all'inizio il libro parte con il botto cioè parte immediatamente con questo annegamento perché tecnicamente quello è ma che permette appunto a questa ragazza di passare dall'altra parte quindi leggenda coreana fiaba retelling di una leggenda coreana ma anche storia d'amore per cui se vi piacciono anche le storie particolarmente romantiche ma vissute in maniera assolutamente delicata perché qui comunque stiamo parlando di uno young adult ma al di là di questo comunque la storia in sé che chiama romanticismo e quindi se volete anche un regalo io direi anche primaverile perché il libro ha un aspetto assolutamente primaverile per una ragazzina magari per appunto per una ragazza giovane è sicuramente un libro molto adatto quindi leggenda coreana storia d'amore romantica retelling e atmosfere da K-drama ma anche atmosfere da studio Ghibli quindi se voi amate anche i prodotti dello studio Ghibli come la sottoscritta vi piacerà perché comunque ci sono questi due elementi principali che sono i K-drama con il retelling della storia e della leggenda della sposa del dio del mare e queste atmosfere alla studio Ghibli perché dico questo? Perché in particolare le atmosfere e l'aspetto di alcuni protagonisti che sono appunto degli spiriti vi ricorderanno dei personaggi usciti dallo studio Ghibli un villaggio coreano quindi atmosfere da capanne da natura appunto di villaggio medievale coreano e quindi le atmosfere anche di quelli che sono comunque K-drama ambientati magari nel medioevo coreano insomma un libro che si lascia leggere molto semplicemente molto facilmente che vi trasporta vi fa un po' staccare la spina ma in senso positivo cioè non è uno di quei libri che si stacca la spina però poi non mi lasciano nulla ce ne sono tanti questo libro vi lascia delle sensazioni belle delle vibes positive e quindi sì quando l'ho finito di leggere ho pensato è proprio adatto ad essere regalato cioè se volete fare un regalo azzeccato una persona comunque che sapete di animo sensibile anche molto giovane il libro comunque è bello si presenta molto bene scritto anche piuttosto grande fatelo perché questa antica leggenda coreana riecheggerà e verrà ricordata nei secoli a venire ancora già è una leggenda antica coreana ma merita di essere ricordata ancora di più con questi retelling e mi pare di avervi detto tutto ora nel prossimo video vi farò vedere qualcosina perché ieri gli amici di instagram già lo sanno sono passata a farmi l'analisi del sangue e sono riuscita a trovare dei libri tramite scambio book crossing anche lì vi dico solo questo e quindi nel prossimo video vi farò un po' vedere questi libri che ho trovato e vi farò vedere anche un paio di libri che ho acquistato un paio di acquisti e poi vi parlerò anche di altre novità in questo periodo ho iniziato un libro su ebook che si intitola ragazze infrante non so ancora di preciso perché ho letto circa un 25 per cento se si tratta di una ghost story o se si tratta di un thriller psicologico credo entrambe le cose da quel poco che ho potuto intuire non mi pronuncio perché sono arrivata al 25 per cento su kinder quindi non posso dare un giudizio ma per adesso mi sta piacendo tantissimo l'ho detto anche già su instagram è un libro che rientra perfettamente nella mia comfort zone perché c'è un po' di storia in qualche modo da ghost story appunto come dicevo prima un po' di atmosfere della ghost story classica però c'è anche il discorso del thriller psicologico quindi rientra indubbiamente nella mia comfort zone tocca capire naturalmente se continuerà su quest'onda se le aspettative e comunque la lettura piacevole per adesso sarà confermata quindi per adesso vi saluto e vi auguro buone letture se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale supportatemi lasciatemi un commento seguitemi anche su instagram e su facebook per appunto sapere cosa combino per quanto riguarda le letture e anche la mia appunto attività di autrice alla prossima ciao